Un 57enne calabrese residente da diversi anni a Catania è stato arrestato dai carabineri per detenzione e fini di spaccio di stupefacenti. I militari hanno scoperto che l'uomo, nonostante fosse i resti domiciliari nella sua casa a Picanello, stava continuando a spacciare. Il suo appartamento in effetti era base logistica per lo stoccaggio della droga. In particolare marijuana, che veniva successivamente distribuita ai clienti. A quel punto i carabinieri hanno deciso di far scattare un blitz dopo aver osservato un insolito via vai di persone dall'appartamento. Si sono presentati in casa del 57enne col pretesto di un controllo di routine e hanno ispezionato accuratamente ogni stanza dell'appartamento. In camera da letto hanno trovato un borsone appoggiato su un baule. All'interno hanno trovato 1800 grammi di marijuana suddivisi in diverse buste di cellofan e una confezione di 50 cartucce per pistola calibro 7,65. In cucina, nel forno, hanno trovato un foglio sul quale erano annotati nominativi e importi presumibilmente riconducibili all'attività di spaccio. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.